Per festeggiare il raggiungimento dei 10.000 iscritti e ne approfitto per ringraziare ognuno di voi ho creato questo video per mostrarvi quanto si guadagna con la monetizzazione YouTube in un canale da 10.000 iscritti. Detto questo ora ci trasferiremo nell'analytic del mio canale YouTube così vi farò vedere uno a uno tutti i dati della monetizzazione YouTube. Venite! Come vedete ho appena raggiunto i 10.000 iscritti, per la precisione 10.031. Ora andiamo nei contenuti del mio canale dove sono pubblicati e caricati tutti i miei video sia di tecnologia che delle fiere comics e da quando ho raggiunto i requisiti della monetizzazione mi si è sbloccata questa colonna grazie alla quale posso attivare o disattivare la monetizzazione in ogni singolo video. Per chi non lo sapesse per raggiungere la monetizzazione YouTube occorrono due requisiti fondamentali 1.000 iscritti e 4.000 ore di visualizzazioni pubbliche. Se volete saperne di più su come raggiungere la monetizzazione YouTube ci ho fatto anche un video dedicato, se siete interessati non vi preoccupate lo troverete come video consigliato alla fine di questo video. Ora torniamo nell'analytic del mio canale, vi mostrerò quanto ho guadagnato dall'apertura del canale e quali sono i video con cui ho guadagnato di più. Partiamo dai video, qui troviamo la top 5 in ordine di entrata. Al primo posto sia il video con cui ho guadagnato di più e il Lego Mokshi motorizzato con cui ho guadagnato 31,75€. Al secondo posto c'è la reggitrice ad area della Philips con cui ho guadagnato 30,19€. Al terzo posto il video tutorial sulla Kartai con cui ho guadagnato 29,74€. Al quarto posto il video tutorial su come guadagnare grazie a Facebook in cui ho guadagnato 27,58€. E al quinto e ultimo posto il Lego tecnica Chevrolet Corvette con cui ho guadagnato 23,25€. Questo ovviamente era la top 5 ma ora vi mostra anche la schermata totale in cui ci sono tutti i video in ordine di guadagno. Come vedete ci sono i cinque video che vi ho fatto vedere prima e scalando ci sono tutti i video in ordine di entrata. Per curiosità andiamo a vedere il video con cui ho guadagnato meno in assoluto. Eccolo qua è il video sugli auricolari della Blackview in cui ho guadagnato solamente 4,62€. Quello che state vedendo è il grafico contenente tutte le entrate da quando sono su YouTube. Noterete subito questa linea retta che parte dal 9 aprile del 2020 fino al 28 di settembre del 2020 che è la data in cui mi si è sbloccata la monetizzazione YouTube. Infatti prima di questa data il mio canale non aveva ricevuto neanche un centesimo. Dal 28 settembre il mio canale ha cominciato a guadagnare circa 20-30 centesimi al giorno. Sando i mesi e aumentando gli iscritti sono aumentati anche progressivamente i guadagni fino ad arrivare a questa metà del 2022 in cui i miei guadagni sono aumentati circa a 2€-2,5€ al giorno. Vi svelo anche i due giorni in cui ho guadagnato di più. Uno è il 26 luglio del 2021 in cui in un solo giorno ho guadagnato 9,15€. L'altro giorno invece è abbastanza recente ossia il 19 agosto in cui ho guadagnato in un solo giorno 8,79€. E ora siamo arrivati al momento clou del video. Vi sto per mostrare quanto ho guadagnato in totale dall'apertura del mio canale con la monetizzazione YouTube. Siete pronti? Olle! Per la precisione ho guadagnato in totale 775,32€. Arrivando alle conclusioni finali col mio canale YouTube ho guadagnato 775€ in due anni di lavoro e più di 150 video caricati. Facendo un rapido calcolo dividendo 775€ per 24 mesi il risultato ci dice che ho guadagnato mediamente 32€ mensili. Capite anche voi che non è un guadagno molto elevato e che se alla base non c'è passione, divertimento e voglia non ha senso aprire un canale YouTube ma solo canali con 100.000, 500.000, 1.000.000 iscritti possono basare tutto il loro guadagno sulla monetizzazione. Per cui se siete un canale piccolo come il mio vi consiglio almeno nella fase iniziale di integrare i guadagni della monetizzazione con affiliazioni, collaborazioni e sponsorizzazioni. Spero che sia stata apprezzata tutta la mia trasparenza nei vostri confronti. Se vi è piaciuto questo video lasciate un like. Se siete curiosi di sapere quanto cambieranno i guadagni della monetizzazione in base alla crescita del canale quando arriverò a 20.000, 30.000, 40.000 iscrivetevi al canale perché periodicamente creerò altri video come questo aggiornando i dati dei guadagni in base alla crescita degli iscritti. Il prossimo sarà a 20.000. Se avete domande oppure dubbi su come raggiungere la monetizzazione YouTube non esitate a scriverle tra i commenti io vi risponderò a tutte le vostre richieste e io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao! Ciao!